40 ore di corso, settimane di lezioni ed impegno per diventare ispettori ambientali ed alla fine non ammessi a sostenere l'esame perché ci si accorge che oltre 90 partecipanti su 165 che hanno presentato la domanda non hanno un requisito richiesto e quindi fondamentale per il bando ma nella sostanza a dir poco eccessivo per il compito da svolgere, il diploma di scuola media superiore. Eppure sui moduli che hanno dovuto compilare e presentare al comune era chiaramente scritto L'iniziativa fortemente voluta dall'ex assessore Fortunato Palumbo ha l'obiettivo di formare degli agendi ambientali tutti volontari gratuiti da sguinzagliare sul territorio comunale per sanzionare i zozzoni che si ostinano a buttare la spazzatura di qualsiasi genere a tutte le ore in qualsiasi giorno e dove gli capita con un danno enorme non solo igienico ambientale ma anche economico per le tasche di tutti i cittadini La partecipazione era riservata alle associazioni per un massimo di 25 soci a Sodalizio Per diverse settimane i 165 iscritti hanno seguito le lezioni dell'ispettore Saverio Valio responsabile del corso 4 ore a lezione per 10 lezioni per 3 volte la settimana Nozioni sul regolamento comunale, di conferimento dei rifiuti, sul codice civile e su come approcciare allo zozzone come redigere la sanzione Tutto inutile per circa i due terzi dei partecipanti Dopo tanto lavoro, impegno e volontà la noccia fredda Scusate, ma abbiamo scherzato Nell'elenco pubblicato alla circoscrizione di Santa Lucia erano più gli esclusi che gli ammessi all'esame per conseguire l'abilitazione di ispettore ambientale La domanda sorge spontanea Ma possibile che nessuno si sia accorto che circa 100 su 165 domande erano irregolari e quindi circa 100 su 165 iscritti non avrebbero neppure dovuto iniziare il corso Ora si sta provando a correre a ripari per cercare una soluzione che recuperi quanti hanno dimostrato tanto impegno e volontà ma sembra difficile una deroga al bando Per tanti una mala delusione ed una considerazione che certo non può essere positiva su chi doveva organizzare il corso eppure non sembrava tanto difficile